La tradizionale processione dei femminili al santuario di Montevergine quest'anno assume un nuovo significato. La Candelora è il momento in cui fede e battaglie per i diritti civili si incontrano e a mamma schiavona che la comunità omosessuale ha eletto sua protettrice quest'anno la madrina dell'evento Vladimir Luxuria rivolgerà una speciale preghiera. Quest'anno c'è anche un tema molto importante che è il tema dei diritti civili che secondo me non divide i cattolici dai laici ma divide i fondamentalisti bigotti dai cattolici aperti di mentalità. Io sono sicura che la stragrande maggioranza dei cattolici sono persone che non vedono l'omosessualità come un'avversione e che sanno che legiferare sulle altre famiglie non significa togliere qualcosa dei diritti a chi ha già una famiglia. Quindi io vado anche quest'anno da mamma schiavona a chiedere una mano a fare una preghiera affinché venga approvata la legge sull'unione civili. Io sono sicura che mamma schiavona nell'immensità della sua bontà non abbia bisogno di intermediari ecclesiastici. Mi basta lei e magari se viene approvata questa legge potrò dire che mamma schiavona è più forte di tanti bigotti del Family Day. L'ex parlamentare ha incontrato gli studenti del liceo artistico De Luca. Il convegno voluto dalla dirigente Maria Rosaria Siciliano è incentrato sul tema della diversità. Sul suo profilo Facebook Franco D'Ercole, esponente del nuovo centrodestra, ha polemizzato con la scuola ritenendo che Luxuria non abbia i titoli per parlare di educazione sessuale agli studenti. Io non sono venuto a fare educazione sessuale, sono venuto qui a parlare oggi di diversità, sono venuto a parlare di bullismo. I titoli, non voglio sbandierare la mia laurea con 110 e lode, ma forse la mia esperienza personale, l'aver vissuto sulla mia pelle, tanti insulti e tante botte anche quando ero una studentessa. Questo è il titolo migliore. B Grazie a tutti